Eccolo, buongiorno. Dove siamo? Siamo a Traversara di Bagnacavallo, piccola frazione di Bagnacavallo in provincia di Ravenna. Qui siamo nella zona rossa dove c'era la casa del nostro Fabrizio. Dove era la casa? Allora la casa che era di mia madre e che era anche mia e di mio fratello e di tutta la nostra famiglia da 150 anni a questa parte sorgeva lì dove c'è quell'escavatore. Più o meno, se non mi confondo. Dietro quell'escavatore, esattamente sotto l'argine che ha esploso con una potenza di non so quanti megatoni e ha sparso le nostre abitazioni fino al Campo Spottio che sarà il per 100 metri di distanza. E questo è casa nostra venuta giù e ci abitava la mamma che ha 76 anni. Ci abitava mia madre che ha 76 anni che fortunatamente è salva, san e salva, ovviamente psicologicamente provata ma chi non lo è a questo punto. E questo è quanto. E adesso mia madre ha bisogno di un alloggio fondamentalmente e poi... di tutto perché è uscita da quella casa con il pigiama, ciabatte e il portafoglio. Basta. Finito. Finito attraversato.